Piero Veneri nel ruolo di Freddie Mercury, White Queen un aleporano che è ansiosa, qui siamo nel backstage, di gustare, di rivivere i Queen Buonasera innanzitutto, avviva la Puglia Channel da Piero Veneri dei White Queen siamo qui nel backstage come ben dicevi, siamo in attesa e manca ormai poco per far rivivere grandi emozioni al grande pubblico che ci sta attendendo quindi in primis all'eporano ma sono ben sicuro che saranno giunti tutti gli altri paesi limitrofi perché la musica dei Queen è una bomba che ha colpito tutto il mondo è riuscito ad esplodere il fenomeno dei Queen anche nell'universo ormai perché sappiamo bene che il cantante dei Queen è una stella intramontabile e quindi oggi in questa serata dedicata alla Notte delle Stelle e quindi al nostro San Lorenzo io credo di poter essere la stella più luminosa in tutto il panorama universale Ci sarà il meglio del repertorio dei Queen? Beh, inevitabilmente i grandi tormentoni non possono mancare anche perché a noi piace accecare il pubblico, renderlo partecipe e vogliamo che ognuno di loro, a ogni singola e primordiale nota, possa riconoscere il brano e quindi seguirlo con grande passione Grazie a tutti Grazie a tutti